Ciao amici, sono Coscia di Pollo e oggi vi parlerò di alimentazione. Ecco qui i miei amici che mi accompagneranno in questa avventura. Seguici! Per crescere bene e per mantenersi in salute è importante avere una buona alimentazione, cioè mangiare in modo sano seguendo alcune regole fondamentali. Innanzitutto è importante mangiare tanta frutta e verdura perché sono ricche di acqua, vitamine e sali minerali che consentono al nostro corpo di funzionare al meglio. Non bisogna invece esagerare con i dolci perché sebbene siano molto buoni, contengono però tanti grassi e zuccheri. Fate attenzione alle bevande alcoliche che possono essere molto dannose per il nostro organismo. Gli adulti devono berle con moderazione, mentre i bambini non dovrebbero neanche assaggiarle. Meglio quindi brindare con un succo di frutta o con un bladimerian alcolico ricco di vitamine. Mastica lentamente! In questo modo faciliterai il lavoro dello stomaco e i cibi verranno assorbiti più facilmente. Mangia ad intervalli regolari, rispettando gli orari dei pasti e facendo trascorrere tempo tra un pasto e l'altro. Il continuo a mangiucchiare, infatti, finisce per affaticare il nostro organismo. Segue una dieta varia, mangia cioè di tutto, seppur nelle giuste quantità e senza esagerare. Il nostro corpo, infatti, ha bisogno di diversi tipi di alimenti perché da ciascuno di essi ricava sostanze diverse, tutte necessarie per crescere e restare in salute. Per questo, i cibi possono essere riuniti in quattro grandi gruppi. Il primo gruppo è costituito dai carboidrati, cioè gli zuccheri, che sono contenuti nei cereali e quindi nel pane, nella pasta, nella farina, ma anche nelle patate, nella frutta e nei dolci. I carboidrati forniscono energie di pronto impiego, indispensabili per fare qualunque cosa, camminare, correre, studiare, respirare e anche dormire. Ci sono poi le proteine, presenti nelle uova, nella carne, nel pesce, nel latte e nei suoi derivati e nei legumi. Le proteine servono per accrescere e ricostituire l'organismo e ci aiutano a diventare grandi. Ci sono poi la frutta e la verdura, che contengono acqua, sali minerali e vitamine, sostanze indispensabili per il buon funzionamento del nostro organismo, che ci difendono dalle malattie e fanno lavorare al meglio il nostro corpo. Infine ci sono i grassi, che si trovano soprattutto nell'olio e nel burro, ma anche nelle carni grasse, nelle fritture e nei dolci. I grassi sono una formidabile fonte di energia, ma sono difficili da metabolizzare e tendono ad accumularsi nel sangue causando malattie. Con questi cibi, quindi, non bisogna esagerare. Talvolta troverete questi gruppi di alimenti impilati gli uni sopra gli altri a formare una piramide, detta appunto piramide alimentare. È uno strumento per comunicare quali e quanti cibi devono essere preferibilmente assunti. La più famosa in assoluto è la piramide alimentare della dieta mediterranea, ritenuta la più efficace per prevenire malattie cardiovascolari. Come potete osservare, gli alimenti che occupano la parte inferiore, come pane e pasta integrali, frutta e verdura, sono quelli privilegiati dalla dieta, cioè che si possono assumere in quantità maggiori. Mano a mano che si sale nella piramide, però, la figura si restringe e la quantità diminuisce. In sostanza, gli alimenti che si trovano in cima, come carni e formaggi grassi, dolci e condimenti, sono quelli da consumare in minor quantità, perché giudicati meno consoni al mantenimento di un buono stato di salute. Ricorda inoltre che è molto importante fare una buona colazione. Al mattino, infatti, il nostro corpo ha bisogno di ricaricarsi di energia dopo il digiuno notturno, per affrontare bene gli impegni della mattina. Pertanto, fai colazione con calma e stando seduto, con una bevanda e qualcosa da masticare. E non dimenticare la merenda di metà pomeriggio, che deve essere leggera e preferibilmente a base di frutta, yogurt o qualche biscotto o cracker. Così potrai ricaricarti senza appesantirti, arrivando all'ora di cena con il giusto appetito. Tutto chiaro? Mi raccomando, seguite i nostri consigli. Non esagerate con i grassi e mangiate tanta frutta e verdura. Ciao e al prossimo video! Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di fare mi piace cliccando sull'icona qui sotto. Per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, ricorda di cliccare anche sul grande pulsante rosso Iscriviti e sulla campanella di fianco.